Buonasera ragazzi, dopo aver centrato il bellissimo terno secco sulla Nazionale con il 32, logicamente io ho coperto i numeri della Nazionale perché, per non farvi capire qual è stato il terno secco vinto sulla Nazionale, perché, ripeto, questa previsione è ancora in gioco, dobbiamo continuare sulle due ruote, chi ha il mensi software di novembre, vi ricordo il metodo terno secco su Cagliari Genova, ok, 1.0, il terno è uscito sulla Nazionale, terno secco su, con tre numeri, questa, 1.400 euro, sono stati vinti puntando, pensate, puntando 30 centesimi sul terno, 70 sul lambo e 30 centesimi sul terno, quindi senza rovinarci, giocando 20 euro sul lambetto perché io gioco lambetto scherzetto, no ragazzi, non ci siamo rovinati, 70 centesimi sul lambo e 30 centesimi sul terno, pensate se invece di 30 centesimi facevamo i grandi, come giochiamo sul lambetto, giocavamo 20 euro sul terno, quale sarebbe stata la vincita? Ma noi, ripeto, è un gioco, con me si gioca poco, 70 centesimi sul lambo e 30 centesimi sul terno, oppure si poteva anche giocare 50 centesimi sul lambo e 50 sul terno, questa cliente ha giocato più sul lambo perché, anche perché sa che è più probabile il lambo che il terno, però, uscendo il terno secco, se erano 50 centesimi, erano più di 2000 euro incassati, però va bene così, giocate poco senza mai esagerare, non vi fate ingolosire da chi si esalta per gli ambetti scherzetti, per le ambate ruote, perché a volte ci si rovina, giocando anche, ci sono persone che a volte seguono i ritardatari, vanno avanti, avanti, avanti e si rovinano, perché con un numero che paga 10 volte la posta è facile rovinarsi, perché io se gioco 10 euro per 10 volte ho perso già 100 euro, quindi per recuperare devo raddoppiare, ok? E non va bene, giocate poco, ecco perché io amo ragazzi giocare, per centrare il terno secco, almeno, con poco, 30 centesimi sul terno, 1403 euro, ok? Detto questo, siamo pronti adesso, ragazzi, a centrare ancora un altro terno secco, e io ci credo con questo metodo, perché sta facendo veramente scintille questo metodo che ho messo sul mensi software 2 agosto, e ci credo, ci spero, come vogliamo dire, perché logicamente, ripeto e ripeterò sempre, lo dico in ogni mio video, la certezza non c'è, ma, visto gli esiti passati di questo fantastico metodo, io un pensierino ce lo sto facendo, e diciamo, dico, già mi sto, già, sto pensando al terno che farò, ok? Ma, anche se, può succedere che invece del terno faccio l'ambo in terzino, però, io ci spero. Di quale metodo sto parlando, qualcuno mi chiederà, ma è normale, sto parlando di terno secco 10 e lode, un fantastico metodo che sta spaccando alla grande, e in questo metodo ci credo, e continuo a dirlo a tutti, anzi, io già ho avvisato in privato, che ha acquistato il mio messi software di agosto, di non farsi scappare quella previsione, vi ricordo come dovete giocarla, ascoltate i miei consigli e vedrete che ci saranno dei botti esagerati. Eccolo, ragazzi, sto parlando di questo metodo, terno secco 10 e lode, ragazzi, abbiamo una fantastica ambata, 72 e 5 ambi secchi, vi ricordo come dovete giocare, allora, chi ha il mensi software di agosto, mi raccomando, ascoltatemi bene, giocate l'intera lunghetta, sono sette numeri per terno in poi, ok? Giochiamo sette numeri per terno in poi. Mentre, poi, per centrare il terno secco a tre numeri, cosa dobbiamo fare? Giochiamo i primi due ambi, insieme, per ambo e terno. Il terzo e il quarto ambo, insieme, per ambo e terno. Il quinto ambo, con l'abbinamento per terno, lo giochiamo per ambo e terno. In questo modo, ragazzi, state attenti che potrebbe, potrebbe, scapparci il terno secco a tre numeri, non a dieci numeri, non a venti numeri, ma a tre numeri. Non parliamo di ambate, ragazzi, qui parliamo di terni secco, non parliamo di ambate, che persone che fanno lotto da 50 anni dicono che dobbiamo giocare all'ambata, ma andiamo a giocare a brisco invece di giocare all'ambata. Oppure qualcuno che si esalta per l'ambetto, facendo giocare l'ambetto su tre, quattro ruote, se vi fate i conti, un euro a lambo, un euro a l'ambetto, dovete giocare otto euro a estrazione, per prenderne 59, c'è nemmeno dieci volte la posta, c'è otto euro a estrazione, se gioco dieci colpi ne ho spesi ottante e ne ho presi 59, quindi non so quando vale. Poi ci sono logicamente quelli là che puntano 20 euro sul lambetto scherzetto, e poi questo non è più un gioco, ma chi punta 20 euro sul lambetto prima o poi si rovinerà perché ne punterà 100, ne punterà 1000, eccetera eccetera, e si rovina perché convinti di vincere l'ambetto scherzetto. Mentre con, giocando le terzine con 70 centesimi sul lambo e 30 centesimi sul terno, vi ho fatto vedere come si hanno degli ottimi risultati. Cioè, un terno sono 4000 volte la posta, rendetevi conto, 4000 volte la posta, se uno punta 10 euro sul terno sono 40.000 euro se esce, non sono briscolini, non sono 60 euro, 600 euro con 10 euro, sono 40.000 euro, ok? Se ne puntiamo uno sono 4000 euro, mentre contro i 60 euro, 59 euro di un lambetto. E voi continuate a seguire chi vi propone l'ambetto, vi fa vedere che con l'ambetto scherzetto abbiamo vinto ancora, con l'ambetto scherzetto, con 20 metodi, poi, casomai, ragazzi, io sto pensando, lo sapete cosa sto pensando, di fare un opuscolo, però questo opuscolo lo chiamerò gira la ruota, metterò 20 metodi nell'opuscolo, poi voi girate il giornale e vedete a caso qual è il metodo da giocare, se siete fortunati vincerete, mentre se invece siete sfortunati avete sbagliato a girare la ruota, riprovate la prossima estrazione, fate gira la ruota, girate il giornale, mettete il dito e vedete quale metodo dovete giocare. E' così, così. Però, poi, ci sono tante persone che sono felici, beati loro. Io continuo a dirvi, ragazzi, giochiamo questa previsione, andate a vedere la previsione presente sul Men's Software di agosto, dove è uscito, come vi ricordo, il 10,7,18, l'ambo della decina del 10. E questo, questo metodo, terno, secco, 10,8, ha spaccato già per due volte consecutivi. Anzi, adesso vi faccio vedere cosa ha fatto nelle ultime previsioni che ha generato, perché, come ben sapete, questo metodo non genera sempre la previsione, lo genera solo quando esce un ambo fra i numeri dal 10 al 19, 10, 11, 12, 11, fino al 19. Se esce un ambo fra questi numeri dal 10 al 19, il metodo genera la previsione. E con questo, le ultime due previsioni che ha generato, ha spaccato alla grande. Vi faccio vedere anche come. Andiamo a vedere, vi ricordo che questo metodo è stato venduto ad agosto, il Men's Software, l'8 per 3 di agosto, è stato dato il primo di agosto. Quindi, andiamo a vedere, dal primo, dal, questo metodo, che quante previsioni ha dato, ne dà pochissime, perché, ripeto, deve dare, vedete, allora, ad ottobre, come vedete, non ha dato nessuna previsione, perché non è uscito nessun ambo appartenente fra i numeri, diciamo, fra i numeri dal 10 al 19, quindi non c'è stata nessuna previsione. Invece, a settembre, vedete, è uscito l'ambo 10-17, ok? Quindi un ambo, presente fra i numeri 10-19, 10-11-12-13-14, per capirci. E guardate, come vi ho consigliato l'ultima previsione, giochiamo il primo ambo col secondo ambo, il terzo ambo col quarto ambo, il quinto ambo con l'abbinamento per terno, ok? E guardate, 30-58-30-19, quindi un terno ha tre numeri, ok? Ascoltate bene che ha il mensi software di agosto. Poi, logicamente, uno se vuole giocare gli ambi secchi, gioca gli ambi secchi, perché poi sono sempre due ambi secchi a ruota, ok? Poi vedete che a settembre, non è che ha dato una previsione a ogni estrazione, cioè, no, questo tipo di metodo dà una previsione. Eccola qua, vedete, la data è il 20 agosto, ok? Chi ha acquistato i mesi software di agosto, se li ricorda bene, due ambi secchi al primo colpo di gioco. Come vi ho detto io, di seguire la previsione, ve lo ripeto ancora. Primo ambo secco, col secondo ambo in secco, li uniamo insieme, formando una terzina. Terzo ambo secco, con quarto ambo secco, li uniamo insieme, formando una terzina. Quinto ambo secco, con l'abbinamento per terno, li uniamo insieme e formiamo una terzina. Quindi, tre terzine su due ruote. Al primo colpo cosa è uscito? Ambo 20-30, ambo 20-82. Quindi, un altro terno secco a tre numeri, ok? Io vi ripeto ragazzi, attenzione a questo metodo, perché, come si suol dire, non c'è due senza tre, e potrebbe scapparci di nuovo un bellissimo terno secco a tre numeri, non a 10 numeri, non a 20 numeri. Io con questo ho finito. Ragazzi, buona serata a tutti e buone vincite sempre con Rosario Gallo e con PrevisioniVincenti.it